Passato e futuro che magicamente si incontrano, in treccio di luoghi dove si formano relazioni e si allacciano e scorrono liberamente storie. E' questo l'input principale del progetto Octane, presentato alla Biblioteca Rogadeo, che mira a valorizzare e fondere le identità dei territori interessati. Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Palo del Colle, Ruvo di Puglia e Terrizzi. Alla base del progetto si ritrovano i concetti di evoluzione nel tempo, contaminazione, processualità, partecipazione del destinatario e dello spettatore. Sindaco Baticchio, l'appuntamento di oggi è un progetto ancora molto importante per la valorizzazione della nostra città. Sì, abbiamo avuto questa idea con gli amici della Conca Barese, con i comuni che ne fanno parte, Terrizzi, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo, Palo del Colle, Bitonto. Abbiamo pensato a come attirare nuovi visitatori e far conoscere meglio il nostro patrimonio ai nostri cittadini. Abbiamo pensato di raccontare delle grandi storie d'amore realmente accadute nei nostri territori in epoche passate e attraverso il racconto delle storie d'amore raccontare anche un'epoca, dei fenomeni sociali, dei contesti economici che poi sono stati cornice della storia realmente accaduta. Attraverso questo progetto, che è stato finanziato dal programma Inter, che Italia-Grecia, che ricordo a me stesso, ha finanziato solo cinque progetti in tutta la regione Puglia, tra le quali appunto la Conca Barese, il progetto presentato a Conca Barese in collaborazione con le autorità greche e con l'Università degli Studi di Bari. Noi installeremo dei pannelli in cui si sarà descritto presso i palazzi storici la storia d'amore di cui trattasi e con il QR code il visitatore potrà, che sarà installato sul pannello stesso, potrà conoscere meglio i dettagli della storia, ma anche le epoche vissute e quindi anche la storia dei nostri centri antichi. Per cui una città di Bitonto sempre più proiettata nel futuro, ma che ha la possibilità anche di conoscere il passato. Sì, più che altro noi cerchiamo di intendere il turista innanzitutto come il nostro cittadino e che quindi possa innamorarsi sempre di più della sua città e capirne anche la valenza storica e poi rivolgerci anche ai fruitori della Puglia stessa che magari avviano un nuovo canale di interesse verso appunto quello che è stato nelle nostre epoche attraverso il racconto di persone comuni come Mette. Fondamentale sarà l'apporto di artisti, scenografi e costumisti in grado di ricreare le ambientazioni e i costumi dell'epoca, ma anche di produttori locali del settore enogastronomico capaci di far apprezzare i sapori delle terre interessate. L'obiettivo è quello di creare un maggior coinvolgimento dello spettatore, ma soprattutto riuscire nel reale intento del progetto, raccontare, far rivivere, far conoscere alcuni spaccati della storia locale, la storia di alcuni edifici storici presenti sul territorio e gli usi e i costumi dimenticati. Michelangelo De Palma, uno dei responsabili di questo progetto Octane, posso chiederti come mai la scelta di questa zona della Conca Barese piuttosto che un'altra? In realtà la scelta della Conca Barese l'ha raccontata anche adeguatamente il sindaco. Il programma Interreg Italia-Grecia tende a finanziare realtà che hanno dei bisogni espliciti o anche meno esplicitati di emersione. La scelta del partner Conca Barese deriva dal fatto che esiste un patrimonio storico architettonico e anche culturale ancora poco noto. e appunto cogliendo l'opportunità del finanziamento pubblico dell'Interreg Italia-Grecia la scelta di questo partner, che è stata una scelta reciproca nel senso che non è stata calata dall'alto ma deriva dal fatto che il patto territoriale avesse espresso dei fabbisogni in termini progettuali, ci ha consentito appunto di cogliere questa opportunità e sostanzialmente di cogliere l'assi di finanziamento che è quello dell'emersione del patrimonio sottoutilizzato della cultura materiale e immateriale dei territori e appunto di portare a finanziamento un progetto che consente di raccogliere realtà che sono ancora poco note, diciamo così, nei grandi circuiti del turismo urbano e rurale e che però hanno già fatto un pezzettino di strada che probabilmente con un piccolo aiuto aggiuntivo possono sicuramente raccogliere l'interesse di un pubblico più vasto di fruitori del territorio.